Volevo chiedere, perché oggi sfogliando un po' guardavo qualche sito sportivo, insomma hai fatto... perché ricordiamo che sei presidente di una società di scacchi, no? Perché Ettore... Mi piace di fare meglio dello scorso anno dove ho avuto il campione italiano in carica, terzo campione italiano assoluto in carica. Abbiamo giocato la Coppa di Campioni, ho portato terzo ex-equo Under-16, abbiamo cinque squadre, sarà molto difficile anche perché quest'anno ho dovuto cedere alcuni cederi, nel senso... Hai venduto dei pezzi? No, ho venduto, ho lasciato i liberi. L'hai lasciato i liberi, non si... Loro hanno sempre, infatti, non hanno lasciato i liberi perché ho giocato, ho anticipato la nazionale giovanile, in qualche parola, giocare la Coppa di Campioni per un'esperienza per me è stata... Io come capitano, ma aver scelto un sestetto, aver fatto i stessi punti di una squadra che aveva 200.000 euro di sponsor, e noi non ce l'avevamo, per me è stato un onore far giocare questi ragazzi giovani, di cui uno di Perugia, Maestro Marsili, per me è stato veramente un onore per l'Italia, perché poi giocavamo con la maglietta dell'Italia. È stata una cosa, esperienza, sarà difficile, però quello che stiamo facendo, stiamo seminando, è un'iniziativa che con il docente di naturopatia Marco Governatori, ci siamo messi in moto per creare un antitono naturale al mondo virtuale per questi ragazzi, che è il mondo dei telefonini, e soprattutto è propedeutico, scientificamente provato, che gli scacchi sono un antitono naturale all'Alzheimer. Ma comunque, chi gioca pallone è comunque uno scacchista, perché vede le mosse in anticipo, valorizza al meglio le potenzialità del proprio giocatore. Perché penso che, a scacchi, almeno noi nelle generazioni più, insomma, non proprio giovani, penso che tutti ci abbiamo giocato almeno una volta. Nel 1972 con la mitica Spassky-Fischer, C'è il momento mondiale, no? C'è il mondiale, è stato bellissimo, c'è un film che è uscito recentemente per ricordare le gesta, insomma, da ricordare che quest'anno, tra parentesi, il numero due che giocava il campionato nel mondo assoluto, io l'ho portato nel 2005 a Perugia, si chiama Caruana, che è il numero due al mondo. Senza una lira, fare, cioè, riuscire a ottenere certi risultati, essere ai massimi livelli, senza una lira, o con i soldi del Presidente, o della società, dell'associazione, che paga le quote minime in Italia, siamo riusciti ad ottenere tanto, la creatività... E poi è una disciplina, chiamiamola, è famosa in tutto il mondo, no? È famosa in tutto il mondo, che ritornerà, sta ritornando in auge, ci sono tante le iniziative a cui una, di un altro circolo di Perugia, ha partecipato il Sindaco, giocando domenica scorsa, io stavo male, non sono potuto andare, ma ci sarà adesso il campionato regionale a Terni, ma quello che volevo dire, noi stiamo facendo un progetto di ampio spessore, con professori, con neurologi, con esperti di naturopatia, come il docente Marco Governatori, stiamo facendo un progetto che sia utile alle associazioni, come di supporto, per far giocare, sì, a tutte le attività, ma anche agli scacchi, che gli serve come materia. E il progetto che abbiamo portato avanti è la scuola di San Martino, in campo, che è stata una sfida, che ha visto 16 ragazzini affrontarsi. Io devo ringraziare quelli che, per esempio l'associazione Gabbiano, che ci ha dato una mano, cioè questa associazione, c'è un protocollo di intesa che facciamo con le associazioni per cercare di far crescere i nostri ragazzi, perché negli scacchi c'è sempre la mossa migliore. Per esempio, domenica ci sarà un grande evento a Gubbio, la Coppa degli Appennini, è organizzato da Francesco Zaccagni, che è un ottimo giocatore. Quindi c'è un'attività importante anche in Umbria. C'è un'attività in tutta in Umbria, per esempio, a tennis sarà il campionato valido per la qualificazione, è il campionato assoluto, cioè per l'Umbria, e i giocatori dovrà dare, si gioca a San Feliciano, si gioca a tutte le parti, sta ritornando, e soprattutto sta tornando nelle scuole. Per esempio a Castiglione del Lago, dove c'è il nostro Brunetti, c'è andato il nostro bravissimo maestro, che si chiama Riccardo Marsili, a insegnare, e questi ragazzi... Ma c'era Brunetti che... C'era la figlia, la figlia di Brunetti. No, no, la figlia, la figlia, va bene, ai Brunetti vogliamo noi. Ma Brunetti lo porteremo. No, perché se Nicolò gioca a Golfa, noi vogliamo Brunetti che gioca a Scali. Lo faremo, lo faremo venire, c'è un fior fiore, lo dicevo, e questo progetto, credetemi, ci crediamo molto, quello degli scacchi come disciplina bionaturale. Quale antidoto a due aspetti fondamentali, all'Alzheimer e soprattutto a distogliere i nostri ragazzi da giocare con i telefoni. E questa è una cosa importante. Ma guarda che ci hanno copiato, un giornale ha già copiato questa iniziativa, lo stanno facendo in Toscana, perché noi abbiamo dato l'idea, andremo avanti perché ci sarà un progetto. Questa è una di quelle cose che se vengono replicate è sicuramente importante. Ma adesso se tu mi consenti un giorno faremo una trasmissione con questi esperti. Magari portali in trasmissione. Li portiamo in trasmissione. Approfondiamo un argomento, che è importante anche per i genitori, perché io sento tutti coloro che hanno bambini piccoli, che stanno crescendo, insomma, il problema dei giochi sul telefonino, di queste cose, invece un qualcosa che li distorga, che li faccia tornare nel mondo reale. Noi abbiamo vissuto il mondo reale, Stefano. Invece ora il pericolo che i giovani piccoli che stanno nascendo stanno vivendo un mondo forse virtuale. Queste iniziative sicuramente possono essere...